applausi e se ci vuole amore e poi l'altro con i cavaliere esce il capitale vuole il cantone e subito incomincia a recitare via trastorno ti ricordi il convinto di Sicilia che più di cinque... dobbiamo leggere che non ce l'ha detto e tutti i giocopini coraggiosi appena in mano posi questa spalla di sangue si viderà anche la scuola di un segretario e non ti pare che... confundente e non eri tu presente il vintolone o forse di bellone è poi passato sembra riportato la ritoria o quanto dottorio a dir se io passato ma io fai turburato e qui su culo io ti voglio assoluti sulla nuova luna partito da l'impazzone da cacchetti i culi dove c'era sa fanno ma... silenzio scostumato fai l'espresso no... e devi adesso adesso ritornare oggi potremmo uscire una bandera e pazzo sta ammazzando appena in presa ma io per la stessa mi chiusa ma... 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 La mia vita è che ti torna a lacrima. Anche? Facciamelo a me, ragazza. Io non voglio creare nemicidici. Non voglio creare nemicidici. Cosa? 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 sa che non vada russa faceva un caldo a una canna a un panza che c'ha braccato il portello e non che lo scortella il tuo patrò e meno male guarda lo solo ha creato il patrò e meno male non essere accorto santo niente ciò che stava andando con mano c'era sempre la paprista è bella è bella tu vicino lo giapponese non è bella non c'è un ministro è bella è bella è bella ma non è che abbiamo già la ricordi ma non è che abbiamo già la ricordi comunque dobbiamo ringraziare i ragazzi che hanno saputo organizzare questa cerimonia bellissima prima per i piccoli e anche a noi ci hanno stimolato se avessero avuto un po' di domenica l'avremmo potuto due giorni potuto preparare meglio è vero che adesso c'è bisogno di tanta esigenza la televisione ci insegna se le cose non vengono fatte bene speriamo di preparare l'anno prossimo poco prima ho dato una